Questi soldi mi fanno comodo. Dall'uno all'uno, cerchio ifior, scifo. Non c'è dubbio che la scelta finale di un evoluto non possa che essere quella di non appropriarsi del denaro contenuto nella valigetta. Però pensate che non abbia dubbi? Pensate che per un attimo non lo possa cogliere il pensiero, questi soldi mi fanno comodo e li tengo? Quindi vedete, creature, che anche con un'alta evoluzione, allorché si possiede un io, anche la persona evoluta per un attimo può avere il dubbio di commettere qualche cosa che va contro la sua comprensione. Certamente poi, alla fine, com'è nella logica della realtà, la comprensione raggiunta alla meglio sulle pulsioni dell'io, perché la spinta della vibrazione emanata dall'acasico è tale che l'io soccombe, per forza di cose, a questa spinta che arriva piuttosto pura, piuttosto pulita, alla coscienza dell'individuo incarnato. Grazie. 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 Grazie.